3. Voto per la sinistra, per affermare un'Europa sociale, un'Europa fondata sui valori del lavoro, della giustizia sociale e dell'eguaglianza. Voto contro i sovranismi, il nazionalismo che porta soltanto allo scontro tra i diversi paesi, tra i diversi popoli. Il leader vero del sovranismo è Trump, il leader locale è Salvini. Voto contro quelle forze del centro-sinistra che hanno contribuito a costruire questa Europa, demolendo tutte le conquiste, tutti i diritti e tutte le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici. Voto per un'Europa che preveda anche la presenza del nostro paese in una lista che è una lista europea, una lista comprensiva delle esperienze anche più avanzate della sinistra. Penso alla sinistra portoghese, penso a Sirisia per quanto riguarda la Grecia, penso alla Spagna come si è visto nelle ultime elezioni e nello stesso tempo alle rappresentanze dei vari paesi dove esiste una sinistra considerevole. Voto quindi, non nascondendomi le difficoltà che oggi abbiamo nel nostro paese, tanto più per questa ragione è necessario partecipare al voto ed è necessario essere presenti nel gruppo parlamentare della sinistra europea che si pone gli obiettivi della costruzione di un'Europa sociale.